15 aprile oroscopo al manacco e allora prontissimi con mauro e con tutti e 12 i segni del giorno san damiano auguri compleanni vediamo un po il cantautore luca barbarossa adesso conduce anche programmi in tv è nato il 15 aprile del 1961 una showgirl brasiliana giuliana moreira 15 aprile del 1982 frase del giorno che ci porta dritti dritti alla fortuna e all'oroscopo avere buoni vicini di casa beh è come avere una casa più grande emozioni intense e bellissime aperture sentimentali possibilità di uscire dalla routine e di soddisfare la curiosità per il nuovo atmosfera familiare distesa per eliminare i problemi di fondo basta fare un'analisi obiettiva attenti alle preziosi alleanze non sciopatele toro nel lavoro entusiasmo e chiarezza di obiettivi sono le vostre armi vincenti scegliete le strategie con intelligenza concedetevi ampi spazi nei rapporti interpersonali e guardate le cose con occhi diversi lasciando che gli altri vi vedano sotto una nuova luce gemelli versatilità da mettere a profitto una buona idea vi proietta nel futuro molti bisogni personali a cui dovete dare risposta ditevi qualche entusiastico sì ogni tanto sfruttate al meglio le ore di riposo con un sano relax la vostra emotività è infatti piuttosto vivace in amore siate cauti cancro esuberanza ed entusiasmo di fronte a situazioni insolite caratterizzeranno questa giornata una nota di anticonformismo non guasta nel lavoro una premonizione vi permette di affrontare in contropiede un'emergenza stimolate discussioni chiarificatrici con soci e collaboratori leone nel lavoro brillanti intuizioni vi aiutano certamente a mettere a fuoco efficaci strategie ma è meglio per ora circoscrivere il raggio d'azione e concentrarvi su impegni a breve scadenza in amore seguite la via della semplicità e siate spontanei sarete più apprezzati vergine giornata favorevole per esprimervi sia mentalmente che fisicamente evitando le chiusure trasformate l'ostinazione in pazienza e determinazione siate realistici nell'impostare un programma di lavoro allontanate le persone indiscrete farete simpatici incontri proprio in ambito lavorativo bilancia molto sollecitata la sfera del lavoro e delle associazioni urgenza di esplorare nuovi campi chiudete i conti vecchi prima di accettare cambiamenti definitivi in amore l'intuito vi aiuta non date niente per scontato avvenimenti inattesi saranno tutti a vostro favore scorpione è il momento giusto per essere anticonvenzionali e rompere qualche schema indipendenza di pensiero e bisogno di allargare il campo d'azione decisioni da prendere nel settore finanziario siate aggressivi ma non eccessivi il sovraccarico di energie può rendervi instabili sagittario apertura verso il mondo esterno e spinta ottimistica a realizzare ciò che risponde ai vostri interessi più radicati molta attenzione interna bisogno di affermarvi attraverso l'azione sono potenziate al massimo le vostre chance lavorative in amore siate trasparenti capricorno atmosfera stimolante e ricca di promesse nel lavoro riordinate le idee il momento consiglia autodisciplina e impegno costante favorite le pubbliche relazioni lucidità nei sentimenti positivo il bisogno di fare un bilancio ricercate un contatto ricaricante con la natura e state il meno possibile in ambienti troppo chiusi acquario giornata brillante in campo sentimentale afferrate al volo le chance di successo fate il primo passo verso la distensione familiare l'intuizione guida una vostra scelta e sarà grande la soddisfazione liberatevi di ciò che non vi serve avete carica vitale da spendere pesci non sprecate tempo e recriminazioni è la giornata più propizia per guardare avanti ed essere innovativi un nuovo progetto va varato con tempismo bisogno di evasione da assecondare ci sono buone possibilità di successo e di affermazione tra i vostri vecchi e nuovi amici